Ciao sono Silvia e questo è il progetto Migliori Libri. L'obiettivo di questo canale è fornire ad altri lettori seriali come noi le risorse per valutare preventivamente e scegliere consapevolmente i prossimi libri da leggere. Un archivio online di informazioni quanto più curate su scrittori, romanzi e libri di ogni genere sul quale potrai fare affidamento per assicurarti che il tuo prossimo libro rispecchia pieno i tuoi gusti e ti consegni davvero ciò che la copertina promette. Se è la prima volta che navighi in queste acque non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i futuri video e rendere questo progetto sempre più utile per tutti. Il libro che ho in mano è quello che ha dato il via al successo letterario di un italianissimo maestro del thriller contemporaneo ovvero Donato Carrisi, autore giallo thriller dal caratteristico taglio noir che proprio con questo romanzo vinse il premio bancarella nel 2009, evento al quale è seguita la pubblicazione di tanti altri best seller internazionali fino ad arrivare a oggi col recente La casa delle voci, thriller contorto che ha ancora una volta diviso la critica. Su questa critica divisa ci torneremo a breve ma arriviamoci un pezzo alla volta. Partiamo come sempre dalla scrittura anche perché seppur il giudizio dei lettori non sia sempre unanime sulle trame a mettere tutti d'accordo su questo autore è sicuramente la sua scrittura. Iniziamo dicendo che Carrisi scrive davvero bene. La sua scrittura è molto scorrevole e aiuta e accompagna il lettore nella comprensione di situazioni tra le più enigmatiche che possiate trovare in un romanzo. Degno di nota restando sul tema scrittura è un impeccabile uso della punteggiatura che aiuta davvero tanto chi legge e rende i suoi romanzi adatti anche ai lettori meno avvezzi. Un ennesimo aiuto nel mettere a terra i fatti narrati ci arriva dalla costruzione dei capitoli che essendo brevi e asciutti, a volte anche solo 5-10 pagine, non rischiano di mettere in difficoltà davvero nessuno. I suoi libri seguono una struttura collaudata che chiede al lettore di completare il puzzle principale senza che questo possa farlo davvero fino a quando capitolo dopo capitolo l'autore non aggiungerà tasselli inaspettati che costringeranno il lettore a smontare il puzzle e ripartire. Salvo qualche lamentela da radical chic i fatti narrati in questi romanzi risultano coerenti nel limite della fiction ovviamente, ben congeniati ed esposti egregiamente, seppur con qualche eccezione che conferma la regola. Infatti se c'è una critica più frequente di altre è il suo tirare un po' troppo la corda pur di favorire la creazione di colpi di scena sempre nuovi, ma come ho detto stiamo parlando di fiction, quindi almeno per quanto mi riguarda non mi aspetto che torni esattamente tutto in queste storie mi aspetto piuttosto che mi intrighino e che in quanto thriller mi tengano col fiato sospeso. Quindi se state cercando questo beh lo troverete sicuramente. Nonostante le defaianze già citate già dalle prime pagine è evidente un grande impegno nell'autore di creare l'incastro perfetto e nel rendere il tutto il più coerente possibile. Il suo obiettivo è portarti esattamente a pensare ciò che vuole lui e ci riesce posizionando con cura gli elementi capitolo dopo capitolo come fossero truppe pronte ad attaccare non appena il lettore sarà cotto al punto giusto. Grazie a questo impegno trasversale e fine la tensione raggiunge il lettore indirettamente e in modo quasi subdolo. Un'angoscia che non deriva da scene crude che comunque sono presenti, ma bensì da una tortura psicologica che porta il lettore a sprofondare sempre di più nella paranoia. Cioè più di una volta mi sono trovata a pensare Dio mio ma sta roba esiste davvero? Ok quindi niente è mai lasciato al caso e su tutto spicca la descrizione dell'atmosfera dei vari scenari ma anche il modo in cui sono delineati i personaggi che è davvero caratteristico. Per farvi capire cosa troverete con un esempio che lo avrebbe reso chiaro ai miei occhi ancora prima di leggerli. Dai libri di Carrisi dovete aspettarvi un incrocio tra la prima stagione di True Detective, Shutter Island e Don Matteo. Per fortuna da quest'ultimo paragone l'autore si impegna tanto a distaccarsi rifugiandosi in cliché tipicamente americani quindi ho idea che se vi sono piaciuti i primi due paragoni che ho citato vi piacerà anche il nostro connazionale. Seppur possa trovarsi come tutti a prendere qualche palo il talento di questo autore è innegabile e basta e avanza per conquistare a prescindere l'85 per cento del pubblico. È chiaro però che se tu arrivassi alla lettura di questi libri dopo essertene letti 500 americani dello stesso genere e partendo dal presupposto che ciò che stai leggendo già all'inizio non è altro che il modo dell'autore per arrivare a un colpo di scena non potresti che darti la zappa sui piedi e abbassare il tuo livello di apprezzamento. Anche se sei un thrillerista non dovresti approcciarti a queste opere cercando il pelo nell'uovo ma lasciarti trasportare dalla scala mobile che l'autore ha acceso appositamente per farti ammirare senza richiedere un tuo sforzo nella salita il panorama da una prospettiva sempre più alta. Tant'è che viceversa i lettori occasionali che da un thriller si aspettano solo mero intrattenimento quasi sicuramente resteranno folgorati dalla trama e dai colpi di scena costanti di queste opere. Opere che divoreranno una pagina dietro l'altra grazie ai puntuali cliffhanger a fine capitolo. Ora che avete capito a cosa andate incontro approcciandovi a Donato Carrisi diamo un rapido sguardo ad alcuni libri vediamo a chi ne consiglia o meno la lettura e da quale dovreste iniziare nel caso fosse il vostro primo libro con la sua firma. Imprescindibile in questo percorso di lettura è l'opera prima di Carrisi il buon vecchio il suggeritore. Questo è il libro grazie al quale oggi non fa più tanto storcere il naso leggere Donato Carrisi tra i nomi di più blasonati autori d'oltreoceano. Qui troverete davvero molto di americano con colpi di scena serrati piazzati con precisione svizzera ogni 10 20 pagine. Dubbi si aprono e si chiudono velocemente per lasciare spazio ad altri ancora più grossi e inaspettati. Se siete i giallisti esperti che dicevo prima invece probabilmente troverete cose già viste ma come vi ho detto l'apprezzamento dipenderà tutto dalla vostra volontà di leggere un libro più o meno pop. In questo libro la protagonista è Mila Vasquez investigatrice e protagonista di più di un romanzo di Carrisi. Un libro ideale per i lettori occasionali a mio parere potrebbe essere L'uomo del labirinto, opera abbastanza originale dalla quale è stato tratto anche una versione cinematografica con protagonisti Dustin Hoffman e Checco Zalone. Ah no, spè, forse era Tony Servillo sì. Questa battutaccia era il mio modo di dirvi di leggere il libro piuttosto che guardare il film nel quale vi assicuro nessun fatto riesce a farti l'angoscia più del labiale italiano degli attori. Comunque soffermandoci sul libro troviamo un ritmo ben dosato nelle diverse parti dell'opera. Thriller psicologico che scorre molto veloce riesce a farti entrare esattamente in quello che è lo stile caratteristico dell'autore. Anche qui troverai un libro caratterizzato da continui colpi di scena spiazzanti che ti costringerà a rivedere le tue certezze anche da un capitolo all'altro. Questo libro è corto e scritto molto grande. La sua scrittura scorrevolissima potrebbe farvelo divorare anche in un solo giorno quindi se il vostro scopo è semplicemente leggervi un thriller italiano a prescindere dall'autore magari è proprio questo quello giusto. Veniamo al tribunale delle anime, un libro sul quale dovrete concentrarvi e che stimolerà molto la vostra abilità deduttiva. Se serve un po' di concentrazione e in più con questo romanzo è solo perché a contraddistinguere la narrazione è un ripetuto cambio di scena tra i diversi personaggi. Questo giochino però è ovviamente volontario e riesce a far sì che ne valga la pena quando alla fine tutte le storie parallele raggiungono magistralmente un punto comune e necessario alla risoluzione della trama primaria. Se vi leggete un thriller a settimana d'anni e fate colazione in compagnia di Patricia Cornwell o Preston e Child allora probabilmente capirete tutto al primo salto temporale. Se invece non siete a quei livelli vi troverete a calpestare non pochi rastrelli quindi mi raccomando attenti ai denti. Chiudiamo come sempre indicando a chi consiglio e a chi sconsiglio l'autore. Consiglio Carrisi a chi ha un'ottima capacità di concentrazione. Questo perché perdersi un pezzo della storia o dimenticarselo significherebbe non poter capire il finale che Carrisi puntualmente si impegna a rendere inaspettato. Se quindi non intendete concentrarvi per capire effettivamente come sono andate le cose lasciate perdere. Apprezzerà Carrisi chi cerca qualcosa di contorto che gli faccia dubitare che i fatti accaduti si limitino all'umano e non sfocino nel sovrumano. Il lettore ideale è l'appassionato di intrighi che ha piacere a cercare in tempo reale la soluzione dell'enigma ma lo è anche il lettore poco ferrato sul genere al quale piace semplicemente trovarsi spiazzato. O ancora il lettore esperto e fissato col genere che cerca sempre nuove storie per verificare ancora la sua abilità di sgamare il colpo di scena prima che questo accada. Come sempre non voglio andare troppo alle lunghe quindi il video si ferma qui ma i contenuti su autore e opere continueranno ad aggiornarsi nell'articolo relativo sul sito web che troverete nella descrizione di questo video. Lì troverete anche altre recensioni dei romanzi di Carrisi e i link di eventuali altri articoli inerenti ai temi trattati. Se sono riuscita ad aiutarti ricorda che acquistando su Amazon dai link in descrizione o sul sito contribuirai in minima parte e senza accorgertene a sostenere questo progetto. Altra cosa che puoi fare per dirci grazie e farci crescere è lasciare un commento, iscriverti al canale o inviarci un feedback costruttivo che possa aiutarci a offrire ogni giorno un servizio migliore. Ora ti lascio alla lettura di Carrisi fammi sapere cosa ne pensi ci vediamo nel prossimo video buona lettura. Se ancora non l'avessi fatto iscriviti al canale cerca progetto migliori libri su google trova il tuo prossimo libro preferito e aiuta altri lettori come te. Qui troverai il nostro ultimo video pubblicato e qui un video selezionato in base alle tue preferenze. Buona lettura!